Economia infrenata nel 2023 in Calabria con una crescita che non va oltre lo 0,6% anno rispetto al 2022 e questo è il trend dopo il biennio di recupero sostenuto che aveva fatto seguito alla crisi pandemica emerso dal rapporto annuale della filiale regionale di Banca Italia, i cui risultati sono stati illustrati a Catanzaro. L'economia calabrese nel 2023 ha registrato una crescita dello 0,6%, stimiamo sostanzialmente di poco inferiore alla media del mezzogiorno e diventa più contenuta la media dell'Italia. Si diteva che nel complesso l'economia continua ancora, insomma, nella fase di recupero avviata dopo la crisi della pandemia e siamo per molti versi, su molti aspetti, su livelli anche già superiori rispetto ai valori pre-pandemici. Il fatturato delle imprese è cresciuto anche se in misura più contenuta rispetto all'anno precedente, soprattutto ha rallentato il settore dei servizi, ancora bene il comparto delle costruzioni. Nel settore manifatturiero registriamo una lieve riduzione dei volumi produttivi, soprattutto per le imprese di minore dimensione. Dal lato delle famiglie sicuramente l'aumento che pure c'è stato nei livelli occupazionali ha favorito un mantenimento di una buona crescita del reddito disponibile che comunque è ancora inferiore rispetto alla crescita del costo della vita per la fiammata inflazionistica che si è avviata nel 2021. Ma nel corso del 2023 le tensioni inflazionistiche si sono andate via via riducendo e questo lascia ben sperare, soprattutto per le prospettive.